Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Molto diverso dal solito. Perché sì, essendo io uno youtuber dell'universo cinematografico Marvel, mi sembrava giusto realizzare un logo che mi distinguesse da tutti gli altri e alla fine ci ho riflettuto. Facendo uscire fuori questa idea del mio nuovo logo del canale e cioè quello che è rappresentato da Iron Man che viene semplicemente illuminato da una luce naturale di su grazie a una fessura che tiene ed è un'armatura in particolare la Mark V. Io ho intenzione di restare così e quindi ogni volta che uscirà un mio nuovo video o una mia nuova live troverete sempre questo logo e così potrete tutti quanti dire ah questo è il nuovo video di Lorenzo manca di Nissa quindi avete capito bene o male tutti. Poi lo so che per molti il personaggio preferito è assolutamente Spider-Man però io pur apprezzando tantissimo l'uomo ragno sono sempre stato un grande fan di Iron Man e quindi potete capire bene tutto potete capire il perché io ami così tanto Avengers Endgame tralasciando la qualità oggettiva che è tra le migliori mai viste nel cinema degli ultimi tempi però comunque avete capito bene io ho deciso di restare così d'ora in poi come avrete potuto capire da un bel po' di tempo il mio canale sarà interamente dedicato all'universo cinematografico Marvel fatta qualche eccezione ogni tanto quindi quando farò le retrospettive delle saghe animate troverete sempre ovviamente il mio sticker solito però quando si tratta del mio focus centrale troverete sempre il logo di Iron Man e quindi nella recensione di She-Hulk che arriverà nei prossimi giorni nella recensione di Black Panther, Wakanda Forever, nei video delle teorie eccetera eccetera lo troverete sempre quindi questo è tutto io spero che continuate a seguirmi anche interamente dedicato all'universo cinematografico Marvel che come tutti quanti sapete è uno dei miei tre universi del cuore quindi spero che mi continuate a seguire e vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui miei video altrimenti mando la Mark82 da voi io vi invito comunque a seguirmi per simpatia ovviamente e noi ci vediamo al prossimo video io sono Iron Man io sono Iron Man